Questa mattina i carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare messa nel corso delle indagini preliminari che sottopone agli arresti domiciliari sei persone residenti nella città di Sommatino e appartenenti al medesimo nucleo familiare, a carico dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di traffico illecito di rifiuti e combustione illecita di rifiuti. Secondo le indagini che sono iniziate nel 2020, nella stazione ferroviaria del comune di Sommatino sarebbe stata realizzata una discarica abusiva sottoposta a sequestro preventivo sin dal giugno 2021. I rifiuti raccolti nella stessa area sarebbero stati in parte bruciati e in parte sarebbero stati venduti a ditte specializzate. Contestualmente all'esecuzione delle ordinanze è stato effettuato il sequestro preventivo richiesto dalla procura e disposto dal GIP di un veicolo utilizzato per il trasporto legale dei rifiuti.